D'amico che prende gli appunti Dottor D'amico, buonasera Dottor D'amico, vorremmo parlare di Deleuze lei veramente si diverte a darmi delle baionettate al ferro non capisco perché mai volevo annunciare agli spettatori che faremmo un numero monografico su Deleuze ma è così, era un semplice annuncio questo non è un annuncio, forse è un auspicio perché sinceramente non so se una cosa del genere sarà possibile sono cose che sfidano veramente lo so che a lei l'idea piace molto no, è che cerchi di capire, non è una questione di modestia è una questione proprio di capacità umana cioè esistono esseri umani in grado di fare ciò bravo, bravo però lo sa una cosa lo sa una cosa, hanno inventato un software per elaborare lo so elaborare scritti postmoderni scritti postmoderni lo so, lo so è bellissimo sì, va bene ma poi che c'entra? lo sa che c'è un grande c'è un marxista americano che un giorno che anni fa definì diarrea verbale le cose che dicevano i postmoderni no sì ma noi partiremo da questo ma in originale com'è? perché diarrea in inglese si dice run che significa correre e poi diarrea o diarrea 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 con l'opera mi sa tanto che c'è una diarrea o se no non mi ricordo se c'è un termine proprio specifico lei sa che ad esempio in francese c'è una parola una parolaccia per indicare l'atto del vomitare come ad esempio c'è una parola in italiano c'è una parolaccia tra che Dio uno può dire deve care oppure può dire o cagare come come i nostri fratelli del nord però non esiste una parolaccia per vomitare esatto va bene ma ne parleremo ne parleremo dobbiamo parlare anche di cosiddetta french theory e parleremo di sì va bene certo di un sacco di cose ecco ma tentare una mosca l'amico si contenga va bene lei mi fa scompensare lei mi fa scompensare va bene questa era solo una piccola anteprima dai sì bella affare comunque ci rivediamo con il giovane Holden sì beato lui ecco va bene beato lui veramente con questo chiudiamo perché l'amico arrivederci non è in forza